Sutri è un altro piccolo paese che si trova nel territorio della Tuscia, nel Lazio. Come prima cosa da vedere c'è sicuramente il parco archeologico. Per poi passeggiare fino a Villa Savorelli, il Giardino all'Italiana e la Chiesa della Madonna al Monte. Grazie a tutti. Da lì poi ci si può addentrare nel Bosco Sacro ed osservare dall'alto l'Anfiteatro Romano. Per entrare nel paese basta passare una delle porte delle mura e non si può che restare estasiati di fronte agli scorci che il paese offre. Una sosta nella piazza principale è praticamente d'obbligo. In ultimo ma non per importanza c'è il Duomo di Sutri che è una struttura veramente imponente per un paese così piccolo.